Mi chiamo Johnny, Johnny Mba, sono un artista di origine, anzi un artista italo-camoronese, ovvero ho le mie origini che sono fondate comunque in Africa, in Camerun di preciso, che è un piccolo paese dell'Africa centrale. Diciamo che ho scoperto il mondo dell'arte già quando ero piccolo, già a casa, mi ricordo ero piccolo, mi piaceva disegnare soprattutto per terra perché avevo poi i miei zii, mi ricordo il mio zio che lui faceva i falegname e quindi disegnava sempre questi mobili, io ero molto affascinato da questa cosa. Poi dopo all'età di 9 anni ho avuto la fortuna di poter raggiungere i miei genitori in Italia, precisamente a Faenza, vicino a Ravenna, che siamo lì, centro-nord Italia. Da lì comunque ho continuato a praticare i disegni proprio già da piccolo. Poi finito le scuole elementari ho avuto la fortuna di avere dei bravissimi insegnanti, un bravissimo insegnante alle scuole medie, che poi dopo diciamo che mi ha consigliato di poter fare il liceo artistico. Ho fatto, più che liceo artistico, ho fatto l'istituto d'arte a Forlì, che era diciamo il vecchio istituto tradizionale. Lì ho fatto l'arte decorazione pittorica, che era come pittura e restauro. Poi da lì, il quarto anno, ho iniziato a appassionarmi sempre di più dell'arte, perché poi lì ho avuto anche dei bravissimi docenti, che sono riusciti comunque a tirarmi fuori proprio questa passione che c'era in me, perché in realtà che poi all'inizio facevo di più l'arte giusto per fare. Poi, mano a mano, che poi o conoscevo tipo artisti che mi interessavano, o anche la sensibilità mia cambiava, e da lì me la sono fatta quasi come una ragione di vita. In quell'anno, nel mio quarto anno di liceo, ho conosciuto questa professoressa che poi mi ha consigliato di provare con l'incisione, con la grafica d'arte, e da lì dopo mi sono iscritto all'Accademia di Belle Arti di Urbino, e ho scoperto tutto il fascino dell'incisione. Forse, anzi, una delle cose che mi ha affascinato proprio dell'incisione, prima di tutto, erano soprattutto i macchinari, perché io poi venivo dall'indirizzo di restauro, quindi mi affascinava tutto ciò che era antico. Qui mi ricordo quando sono entrato nelle aule di incisione, ho visto questi tocchi, mi hanno un po' spiegato, gli anni, a che cosa servivano, e io sono rimasto veramente affascinato da questo mondo. Come linguaggio? Urbino, anzi, mi piace essermi definito artista, non incisore, perché l'incisione per me è più che altro un mezzo, un mezzo per poter esprimermi. Quindi, dopo essermi iscritto all'Accademia di Belle Arti di Urbino, ho incontrato dei bravissimi maestri, bravissimi insegnanti, e diciamo che prima di tutto Urbino sono rimasto affascinato, soprattutto anche dal paesaggio che sta intorno alla città, il famoso paesaggio urbinato, noi lo chiamavamo così paesaggio urbinato, oppure anche paesaggio marchigiano, che è il tipico paesaggio comunque decente Italia, coline, montagne, campi, che poi spesso cambiano anche colore in base agli orari della giornata, in base anche a come colpisce il sole, oppure anche alle stagioni. E da lì effettivamente per me era impossibile non rimanere affascinato da questa cosa, da questo mondo, questa bellissima natura che sta intorno alla città. quindi da lì effettivamente ho iniziato sempre più a interessarmi, sia nella rappresentazione del paesaggio, più che rappresentazione, io la chiamerei quasi un'interpretazione soggettiva, ecco, perché io non voglio proprio rappresentare il paesaggio come lo vedo, ma far uscire dentro di me ciò che sento quando lo guardo, ecco. E in questa cosa mi hanno anche aiutato tantissimi grandi maestri, marchigiani, anche urbinati, come ad esempio Renato Bruscaglia, che in Italia è stato uno dei più grandi incisori del secondo novecento italiano. Abbiamo anche Castellani, oppure anche tantissimi altri fotografi, come Giacomelli, anche Ghiri, e anche un fotografo che mi piace tantissimo, che si chiama Franco Fontana. E quindi a Rubino, come dicevo, sono rimasto molto molto affascinato da questo mondo che volevo proprio far uscire dentro di me. Diciamo che ho avuto tantissima fortuna di capitare in un luogo del genere, poi perché ho sempre avuto un rapporto particolare con il paesaggio, con la natura, perché provengo comunque dal Camerun, dove noi in Africa abbiamo veramente un rapporto molto molto speciale, intimo con la natura, anche già da piccoli, il fatto che di solito, mi ricordo quando ero piccolo, andavo nei campi a lavorare, ad aiutare, non so, i noni, a raccogliere le cose, perché poi di solito abbiamo i campi in fondo, tipo nella foresta, ecco. Quindi anche da lì uno cresce, diciamo che cresce avendo tantissima confidenza, perché devi conoscere anche questi luoghi, con questi luoghi, ma anche ammirandoli molto. E questa cosa per me, nel confronto della natura, è sempre rimasta e ha influenzato molto, diciamo, il mio linguaggio artistico, con il mio modo proprio anche di esprimermi. Per quanto forse riguarda il paesaggio, ho sempre ammirato il paesaggio, ma al tempo di oggi ho sempre comunque avuto anche tantissime critiche. Per quanto riguarda proprio il rapporto fra l'uomo e il paesaggio, perché una volta è l'uomo che effettivamente doveva adattarsi. Adesso purtroppo è il contrario, ecco. È la natura che sembra che si debba adattare all'ambiente che crea l'essere umano. E quindi, nei miei confronti, oltre a essere, c'è comunque un'ammirazione nei confronti della natura, ma c'è comunque anche un po' questa critica. Poi perché sappiamo anche tutto ciò che sta succedendo anche intorno a noi per quanto riguarda i cambiamenti climatici, diciamo, queste tematiche contemporanee, ecco, che sono molto, molto attuali.